Ciao ragazzi, ben ritrovati su Advanced VR Fair, sono Ben, nuova settimana e nuovo video in cui riassumo le notizie più importanti al mondo della VR della terza settimana di dicembre. Qualcuno di voi nell'ultimo video mi ha fatto la punta al c***o dicendo, ma le più importanti è soggettivo. E allora, visto che sono sul mio fottuto canale, io decido quali sono le più importanti, apriti un tuo canale e sarai padrone di dire quali sono le cose più importanti per te. Ma per adesso, le mie sono queste. Via col video. E' stata implementata una funzione per il browser Oculus che consente di ridimensionare le finestre a dimensioni personalizzate. Non è ancora disponibile per tutti ed è stata comunicata tramite un tweet. C'è solo da aspettare quindi. Oculus Quest 2, visore stand-alone più venduto nel mese di novembre, come ho già detto in un precedente video. Ma perché? Sicuramente per il prezzo. Ma se un'azienda come Vive vendesse il suo Elite Cosmos a prezzo decisamente ridotto, cosa succederebbe? Probabilmente lo scopriremo tra qualche settimana. Perché? E' quello che è successo durante quest'ultima settimana appena trascorsa. Ossia Elite Cosmos, visore stand-alone di Vive, è stato venduto al prezzo di 399 dollari. Altre offerte sono state fatte anche per gli altri visori, ma si tratta sempre di cifre molto elevate. Ma nel caso di Elite Cosmos, si tratta di un visore stand-alone con caratteristiche superiori al Quest 2. Quindi valeva la pena approfittarne. Anche se le offerte, oltre a essere scadute il 19, erano valide solo in Stati Uniti e Gran Bretagna. L'Università di Stanford ha effettuato il primo corso interamente in VR, sfruttando visori Quest 2. Le lezioni si sono divise in diverse attività, come guardare filmati in 360, oppure sessioni di gruppo in Altspace. E le discussioni di classe venivano svolte utilizzando Engage. Tutto molto interessante, ma vorrei sapere la tua sull'argomento. Sempre più attività in VR e meno interazioni tra le persone. Come vedi questa cosa? Rispondi tra i commenti. Quest Day, evento che si è svolto il 14, solo negli Stati Uniti, di cui si è fatto un gran parlare. Ma cos'è esattamente? Si è trattato di un evento in cui sono stati fatti dei regali e sono stati ascennati alcuni progetti futuri, ma niente di concreto alla fine. È trattato più che altro di un evento da parte dell'azienda per augurare buone feste ai propri utenti in modo simpatico. Google pare stia assumendo in diverse posizioni che riguardano la realizzazione di un nuovo sistema operativo in AR per dispositivi in realtà aumentata. Da questo potremmo ipotizzare che Oculus, oltre ad Apple, già al lavoro su nuovi visori standalone, potrebbe avere un nuovo concorrente ed essendo un altro colosso come Google, non possiamo aspettarci altro che buone notizie. Vedremo cosa arriverà. Aggiornamento importante in arrivo per Pavlov, sparatutto militare in VR che aggiungerà la modalità di gioco Push, che prevede obiettivi che cambiano progressivamente. Il respawn si concentra in prossimità dei punti catturati della squadra e una bomba viene inoltre attivata sul punto catturato. La squadra avversaria avrà un tempo limite per disinnescarla. La modalità Push è disponibile attualmente su alcune mappe, Stalingrad, Santorini, Container Yard, Siberia e Bunker. Amanti dei giochi da tavolo RPG è finalmente arrivata la terza campagna per Dimeo. Dopo il Rat King il gioco cambia completamente aspetto, perché non solo ci sarà un nuovo scenario, ma anche un gameplay molto più punitivo. Nonostante l'aggiunta della quinta classe, ossia il Bardo, Dimeo nella sua terza campagna continuerà a mettere a dura prova la bravura dei giocatori nel gestire abilità e carte magia. Inoltre, se non hai un visore VR ma vorresti giocare Dimeo, sappi che in aprile dovrebbe arrivare la versione Flat. Tra le novità ci sarà anche una modalità PvP, della quale devono essere ancora svelati i dettagli. Se sei amante del gioco, puoi unirti a me in partita entrando nel Discord Dimeo Italia, dove altri giocatori italiani si ritrovano per giocare. Troverai il link in descrizione. Dunque, parecchio tempo fa ti avevo parlato dei visori Arpara e sembravano essere piuttosto promettenti. Alcuni di voi, tra i commenti inoltre, mi hanno chiesto periodicamente ulteriori informazioni su questi visori, soprattutto sulla loro uscita, che doveva essere tra agosto e settembre, ma niente. Anzi, non solo i visori non sono usciti, ma Arpara ha anche avviato una campagna Kickstarter per raccogliere fondi. Ma raccogliere fondi per cosa? Se avevano già annunciato l'uscita e poi l'hanno rimandata. L'azienda avrebbe dovuto già avere i fondi per rilasciare i visori e avviarne la produzione. C'è qualcosa che non va e soprattutto, in base alle recensioni di canali importanti come VR Oasis, sembra che i pochissimi modelli distribuiti siano di qualità davvero scadente. I problemi non sono solo relativi a materiali di costruzione e software, ma soprattutto al NOLO, sistema di tracciamento che, usando termini prettamente tecnici della VR, fa cagare. Morale della favola? Pare proprio che il progetto Arpara si tratti effettivamente di una sorta di truffa vera e propria. Importante aggiornamento per Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall e finalmente sono stati fixati molti dei problemi principali del gioco. Carbon Studio afferma di aver migliorato l'esperienza in generale del gioco, ma ciò che viene sottolineato sono i miglioramenti sul lancio degli incantesimi. Il sistema di inventario e interazione con gli oggetti. Oltre a correzioni di bug, è perfino una migliore ottimizzazione. Non resta che provarlo nuovamente. Meta ha rilasciato un progetto dimostrativo, uno Showcase, per Unreal Engine, per offrire agli sviluppatori le basi per costruire interazioni in VR con Hand Tracking. Nulla App Lab è disponibile l'Oculus Hand Gameplay, che ti darà un assaggio delle potenzialità di questo strumento. E non sei uno sviluppatore e non saprai che cazzo fartene, ma è sempre bene restare aggiornati sugli sviluppi in campo VR. After the Fall, sviluppato da Vertigo Games, stessi autori, fra l'altro, di Arizona Sunshine, ha fatto registrare più incassi in un solo giorno di quanto abbia fatto, appunto, Arizona Sunshine in un intero mese. After the Fall è partito col botto, in effetti, ma si stanno registrando già dei cali a causa della mancanza di contenuti significativi. Vertigo, infatti, ha già presentato una serie di contenuti in arrivo per le prossime stagioni, cosa che dovrebbe tenere ancora in caldo tutti quei giocatori che, presi dall'entusiasmo, hanno esaurito già l'esperienza in una manciata di giorni. Vedremo cosa porteranno di nuovo. Intanto, vieni a trovarmi anche su Discord, After the Fall Italia, dove ogni giorno tantissimi giocatori italiani si ritrovano per partite cooperative. Trovi il link in descrizione. People Can Fly è uno studio di sviluppo VR che, nell'ultimo anno, ne ha acquisiti altri, come Brookhaven Experiment, Posphor Game, e adesso conta anche l'acquisizione di Incuvo, studio che si è specializzato nel porting di giochi flat in VR come Green Hell VR. Titolo che arriverà nei primi mesi del 2022 per PC VR, e queste due. Queste acquisizioni nel settore della VR sono ormai all'ordine del giorno e dimostrano come il settore stia attirando sempre più l'attenzione non solo di utenti giocanti, ma anche di sviluppatori sempre più grossi. Film volumetrico. Mai sentito parlare? Si tratta di un film che puoi guardare a 360. Construct è un progetto che dimostra come è possibile realizzare un film in VR, dove lo spettatore è parte dell'azione, trovandosi al suo interno. Questo è solo un progetto, ma immagina come sarebbe un giorno vedere film come quelli della Marvel, oppure Matrix, direttamente dal vivo dell'azione. Argomento del quale si discute da tanto tempo e che finalmente sta prendendo forma. Viveport regala giochi ai nuovi abbonati. Intanto cos'è Viveport? È un servizio in abbonamento che funziona con tutti i principali visori PC VR. In questo periodo, grazie a un'offerta speciale, Viveport regala ai nuovi abbonati annuali tre giochi. Drunker Bar Fight, Song in the Smoke e Zombieland. Oltre al 10% di sconto. Mentre per i nuovi abbonati mensili, regala Zombieland e un biglietto per la mostra Cat Art. Luke Ross, sviluppatore di mod VR per giochi flat, è tornato all'opera su Horizon Zero Dawn. Come tutte le mod VR, non si tratta di una versione del gioco perfettamente adattata alla VR, soprattutto perché per eseguirla serve un PC di fascia molto alta. Ah, Horizon Zero Dawn è un gioco molto estetico e poterlo vivere in prima persona è sicuramente un'esperienza unica. Settimana ricca, molto più delle altre, devo dire, e questo è un buon segno, visto che più si parla di VR, più si attira l'attenzione su questo mercato che ha bisogno di qualcosa che lo aiuti a emergere definitivamente. Spero tu abbia trovato interessanti queste notizie, fammelo sapere tra i commenti. Grazie per la visione, like, iscrizione e campanella, da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi! Grazie! Grazie!